Ciao, sono Cesare Renzo, portavoce della Comunità per la tutela della Cultivar Dolce di Rossano. In questo video non vedete i nostri volti ma le piante millenarie di Dolce di Rossano. Ci troviamo appunto a Rossano, nell'Alto Ionio Cosentino, e l'obiettivo della nostra comunità è quello di tutelare e divulgare la biodiversità del nostro territorio. Grazie.